...questo non è solo è dimenticata, è stata una città, non è stata considerata. Ricordo che mentre ad esempio a Palermo, ad esempio in Palermo, c'era un bravo e in altre strade... ...e ti dicono l'altro? E ti fanno una domanda? ...e te altri sono stati più sicuri, prima di ogni altra cosa, come veicolo di pandemia. Siamo qua, abbiamo bisogno di noi, è un grido, è un grido di aiuto, non possiamo ripartire, tutti sono stati aiutati, si parla di ristori, si parla di contributi a fondo perduto, i teatri hanno avuto e non ho contributo, ...le viene avuto e non ho contributo, i tassisti hanno avuto e non ho contributo, le agenzia dell'ospettacolo hanno avuto e non ho contributo.